Nel quarto episodio abbiamo fatto una scoperta eccezionale, cioè niente, non abbiamo ancora scoperto nulla, non sappiamo ancora che cazzo dobbiamo fare, ma non vi preoccupate, nel quinto episodio scoprirete un casino di cose, tipo se boxi quante volte si metterà il dito nel naso, questa è una cosa che dovete vedere tutto il video per sapere quante volte si mette il dito nel naso, ma comunque non abbiamo scoperto un cazzo, quindi nel quinto episodio sicuramente scopriremo qualcosa, perché altrimenti mi sto rompendo le palle di giocare ad un gioco che ancora non mi spiega un cazzo di quello che sta succedendo, comunque non vi preoccupate, se tutto andrà bene, qui boxi starà ancora con noi, credo, ma comunque vabbè, guardate il quinto episodio e nel sesto episodio scopriremo un casino di cose, quindi ancora forse nel quinto non scopriremo niente, ma speriamo nel sesto, nel settimo faremo altre scoperte, vabbè, comunque seguitevi il video e buona visione. Salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio di Soma, con il nostro robotirio qui con me c'è... Roxy di LNC E qui cambiamo personaggi ogni volta, cioè... Roxy! Sono boxi, se non si fosse capito... Beh, perché nessuno ti vede, guarda Chapeau, beh, ma dalla voce, credo di avere una voce abbastanza... Indovina un po'? Inconfondibile, non infilare il dito, ti prego, non infilare il dito... Beh, almeno hai tocco più vuoi... Can you hear me? Theta, listen... Akers is headed for Theta Delta will be more panic, getting a single but no audio Straski... Come in audio si è detto in inglese, c'è l'Italia E' una donna questa quindi... Spero non sia la ragazza che è un robot... Ma hai infilare il dito in quella cosa cosa sei contento? Sììì, il braccio semmai... Sìì, ultimamente il braccio però... Ma io ancora non ho capito perchè lo stiamo facendo. Ma neanche io lo so. C'è un motivo, ogni volta che facciamo questa cosa succede qualcosa... Vedi... Tipo qua... Vedi... Secondo me serve per attivare determinate cose Non ne sono sicuro Comunque riassunto degli ultimi 5 episodi Nel primo episodio non abbiamo capito niente Nel secondo episodio non abbiamo capito niente Nel terzo episodio abbiamo capito che Bando non è molto furbo Nel quarto episodio abbiamo capito che i robottini Ci salvano la vita Per il resto non abbiamo capito niente Non è vero perché Non è vero perché C'è una persona che prima del video Parla e ti spiega tutto E non vi dico chi è È uno che abbiamo pagato per fare queste scene Sei sempre tu Non è vero Sì lo so già Non è vero Sì ti ho sentito Hai delle prove Sì Ecco dove sono le prove Ho la tua intro Ah beh se lo dici tu Comunque non ci sono prove di questa cosa Beh se il robotino è l'unico Il nostro amico Che figo Glielo dice anche È giusto Dì a Dio al robot prima Ma no gli stiamo dicendo a Dio Magari dobbiamo riuscire Ma no gli stiamo dicendo a Dio Vedi ci spetta fuori Volevo abbassarmi per vedere che cazzo aveva Eh non ha avuto vita facile Ma c'era un tastino rosso qua Perché Hermif non ce l'ho zero Io penso che devo metterli in queste linee qua La luce mi ferisce gli occhi Egli dice che non ho più bisogno di questa carne vitrea nel mio cranio Per vedere la salvezza Li strapperò via con il piacere Non adobreranno più la mia missione divina Grazie No No Non sono bravo a scacchi Cioè sono bravo a scacchi Ma non fino a questo punto Non è che devo battere il computer No No non ve lo dire Ah vabbè peccato Ebbè quindi Quindi non serve a un cazzo Insomma Perché è chiuso Questo mi dà il dubbio Perché è chiuso Non ne ho idea Il mio riflesso del sangue nero del custode sussurra Devo salvarli da questo inferno Farmi dormire Chiuderli nei sogni lucidi che anch'io ho veduto Sì ma a me mi sta bene tutto Amore Pace e tenerezza Qua ci sono i posti più Va lì forse Ok Favre siamo riusciti a trovare un punto di Ti assicuriamo Ma bottino mi ha fatto cagare addosso Perché Mi è comparsa all'improvviso dietro la schiena Ma lui è sempre bravo Mi dispiace ma mi viene voglia Ok Ma perché lo favo io Dopo perché è bene nero E poi dopo ripete tutto normale Riaccendi Riclicca Questo è un K8 ragazzi Quello che abbiamo noi Ok Questo è un Bull Quello che ci picchia sempre Topaz E il Tampax per le donne Robotizzate L'abbiamo visto molto prima quello E qualia 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 Intelligenza Vale a due Veicolo da ricerca Quell'altro invece Non si sa Classe Miniau Pilota remoto Niente Terri è stato deciso che tu e la tua squadra Vabbè va qua Qua rete Tetta il giorno quando dice Abbiamo già preparato tutto il vostro arrivo Verrete già le vostre nuove mansioni Vedete ci sarà una retrocessione di grado L'ultima cosa che ci serve sono altri leader Eh non penso ti serve a leggere tutto Vai avanti Eh lo so eh Perché magari A me secondo me A loro interessa questo Eh vabbè Ma vai te lo tico io Non posso fare una partita manca a scacchi oggi Andate a cagare Uff Io volevo fare una partita a scacchi Questo credo che sia il bagno Già Direi Era il bagno Un'altra stanza inutile vero Dove sono io Però vedi è puntato verso lì adesso Aspettiamo Antenna Controlla antenna Quale? C'era scritto antenna Eh ma è questo Allora Clicca su echo Ok allora L'unico modo è È fare così Questo che problemi c'ha Perché mi dà un problema alla vista Ma qua è chiuso E qua c'è morta tanta gente Già Che sexy Robottino Tu non hai niente da dire Vabbè Il robottino Non ci dice mai un cazzo Questo è morto qua E non si capisce Perché sto soffrendo A vederlo Scusami radio Peter Can you hear me? I hear you Terry I mean Mr. Akers sir I've changed my mind I would like to come to Theta Let Delta sleep Of course Wow Honestly didn't expect to hear from you again Such a long time since you checked in We have a few divers in a Zeppelin Surveying Lambda at the moment I'll just make sure they pick you up when they're done Thank you for the warning I'll make sure they feel welcome Ok Come l'hanno pagata Chiara Cara Scusami eh Allora l'unico è questo L'antenna è qua Questo qua che cazzo è questo Quello verde Baci Guarda lì hai più Più codici Prova a cliccare uno A rifare lo stesso procedimento Due No 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 Eh devo metterlo sul raggio E prova con tutti adesso Ok Ce l'hai Eh sto gli altri devo cercare però Ottimo Eh ma eh Devo capire però Eh aspetta però Eh Magari una alla volta lo posso attivare Boh Ok facciamo così adesso Eh vedi Però Cosa vuol dire Manca ancora uno E qua me li facciamo tutti Richiedi trasporto Sta arrivando Si va da dove però Robottino io ho paura Eccolo Non è una specie di squalo Non è una specie di squalo Non è una specie di squalo Ah no Che parla Oh no. Mi sa che devi uccidere il tuo robottino amico No, credo quell'altro Non credo il mio robottino Vai dall'altro allora Quello là che c'è là in fondo No, robottino, non ti ammazzerò se non ho altre scelte Ammazzerò quest'altro Per me sta soffrendo Robottino preferivo lui secondo me Oh l'arma no, che cazzo la stai buttando? Dai prendici Eh, se me lo fa prendi Vediamo un po' Beh certo, si doveva ammazzare esseri umani perché sono un robot Eh, se me lo fa prendi It's just beginning to sink in I mean really sink in I'm a robot Didn't we cover this already? They said no and ever since I woke up at Upsilon Just keep suppressing it Like my brain doesn't want me to think about it It's really getting hard not to think about it Yeah Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure Vabbè, se fossimo dei robot però in teoria l'avremmo già capito, no? Non credo Non credo che Amnesia abbia rovinato questo gioco già spoilerandoti che sei un robot E in genere gli Amnesia ti perdi la memoria e vai avanti nel livello finché non scopri che alla fine sei o quello che ha ammazzato tipo nel 2 i tuoi figli Oppure come nell'uno che eri in un castello e poi dopo vieni a scoprire che eri una... E non spoilerare a chi non c'è ancora giocato Ma chi cazzo l'avranno già giocata quei due giochi, no? Magari no? Eh vabbè, è peggio per loro Te non mi vuoi dire niente, no? Del tipo Ho ammazzato un robot che poteva essere umano Ma in teoria era già morto in teoria In teoria Quella è la pratica non lo so E niente, aspettiamoci questo bellissimo viaggio ma non mi sembra molto felice ma non mi sembra molto felice ma non mi sembra molto felice sì esatto che acida che diventa un robot vabbè robot acido tuttavia io penso che tuttavia però io penso che faremo un giro a Tita soltanto nel prossimo episodio lo dico anch'io perché ragazzi sta diventando molto lunga questa serie però è bella io mi sto appassionando anche se io diventerò un robot omosessuale l'uomo ero comunque a caso Foxy non risponde più vabbè ragazzi per questo video è tutto da Bayon Community è Foxy non risponde Foxy un robot omosessuale sul serio non potevi scegliere nient'altro di meglio robot heterosessuale non esiste neanche omosessuale quindi alla fine le macchine non hanno sesso vabbè un saluto da Foxy non ancora robot o forse lo sai o forse lo sai anche tu eh forse quindi per questo video è tutto un saluto da Bayon Community e da Foxy Robot o forse no quindi ciao a tutti